no e ciao a tutti di nuovo su the darkness 2 piaciuta la partita di ieri di fifa ho fatto 3 gol lì al perugia l'ho distrutto fuoco quindi da che eravamo di maestro ciao a morire muovemo a dire mamma mia no mamma mia che violenza qui non c'è niente ma sono no no cerchiamo quelli che hanno tentato di farmi fuori che palle sono morto che schifo no siamo solo un'arma ma che c'è dov'è 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 no 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 oh fatemi prendere sue armi di��ore to walking death bellissimo mia magia preferita questa bella troppo bella mamma mia che figata che cazzo è che cazzo è mi ha fatto cagare sotto sono mamma mia che violenza scusate se sono zitto mi godi il gioco non servono munizioni grazie come morire come morire se lo cazzo l'hai buttata la mia mamma la mia mamma va muori stronzo bella vita mamma mia che bello sto gioco ho fatto bene allora dire che faccio un po' fifa e un po' the darkness così completo due serie vabbè fifa fifa vedrò quale è il mio obiettivo per completarlo questo invece devo completare il gioco in basso e io quello che faccio mi sono morto mi hanno fatto la trappola preparate l'ampolla l'ampolla mi hanno catturato mi hanno catturato mi hanno catturato mi hanno catturato ai 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 cosa diavolo stai facendo hai sveglio beh tenetelo concentrato ehi sta fighetta qua mi piace la sensazione sembra appiccicoso fai il tuo lavoro fratello al trasferimento completato avremo quello per cui siamo venuti tu mi devi credere avrei voluto poterlo fare in qualsiasi altro modo jacky ma tutti dobbiamo fare scelte difficili e ora tocca a te quindi sei tu il bastardo che ci attaccati al ristorante non parlare e non pensare ascolta e basta tu stai custodendo una cosa perduta da molto tempo una cosa che non ti appartiene ora devi restituirla quello che ti accadrà dopo è secondario questo è brutto mi interessa soltanto una cosa una figa mi interessa io voglio la tenebra non so di cosa stai parlando certo che no il fatto è che sei stato troppo imprudente troppi criminali in questa città credono che ci sia un demone che vive dentro di te il ristorante era un test per essere certi che tu fossi il nuovo ospite della tenebra l'hai superato io la rivoglio sento che ti agiti là dentro ti stai innervosendo sei troppo stupido per dare alla tenebra il timore e il rispetto che merita Jackie lei preferisce la compagnia di un coglione che può controllare e non sopporta la vista di un uomo intelligente che può tenerla a bada te lo chiederò una volta sola sei disposto a darmi la tenebra di tua spontanea volontà? no visto che sei un fottuto genio perchè non te la prendi e basta se leggessi qualcosa a parte fumetti e menu sapresti che ci sono delle regole che brutto quel naso l'ospite deve consegnare la tenebra spontaneamente temo che dovrò aiutarti a fare quella scelta signor pivice gentilmente guarda bene ragazzino è il tuo snuff movie personale la tenebra ti ha obbligato ad assistere all'omicidio della tua ragazza il tuo primo atto come ospite è stata la sottomissione ammettilo Jackie non puoi controllare la tenebra non potrai mai consegnala alle persone che sono in grado di farlo il flusso di materia oscura che fluisce nell'ampolla significa che stai già pensando di cedere vediamo se posso facilitarti la decisione signor Bragg così questa era la tua ragazza Jackie boy mi sa che l'anello sul labbro aiutava con i pompini ma io dico potevi approfittarne quando le hanno staccato la testa Jackie Jackie l'intero edificio brulica di nemici non mollare Jackie non hanno ancora il pieno controllo silenzio i tuoi uomini sono stati attaccati in tutta la città abbiamo i mezzi e l'intenzione di mettere in ginocchio la tua organizzazione e a breve anche casa tua pensa in fretta Jackie questa faccenda non riguarda più solo te fai la tua scelta destra o sinistra chè che fischio è disa vengo Jackie no! non puoi farmi questo! figlio di puttana oh 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 se l'hai fatta addosso hai fatto la cosa giusta Jackie mostra ai bastardi che nessuno invade il nostro territorio chiudi quella bocca del cazzo fottuto cadavere far uscire il genio dalla bottiglia non è stata una buona decisione Jackie per la tenebra tu sei solo un pupazzo di carne e cartilagine ultima chance mi consegnerai spontaneamente la tenebra? no fottiti allora lo farei con la forza sto cercando di aiutarti ma sei troppo stupido per capirlo adotterò un linguaggio che anche tu puoi comprendere signor Bragg uccida tutti nella casa trovi la vecchia signora e le strappi le braccia ehi! che ne diresti se le strappassi quelle vecchie e inutilitette? che ne pensi Jackie boy? hai perso Jenny perché non potevi controllare la tenebra e adesso perderai tutto ciò che ami perché non hai il buon senso di riconoscere i tuoi limiti spaccagli la faccia ogni dente uno per uno chate devi resistere mita foco dove deve Jacky Ti preproteggi la Dea! Ehi, con te ho chiuso! Non lasciare che mi prendano! Affanculo! Non sono più il tuo burattino! Farai ciò che ti ordino! Dammi una buona ragione! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Jenny! La sua anima è mia! Tu farai come ti dico! Che teneva bastardo! Jenny Jenny è morta, idiota, concentrati Dammi la tenebra, o la tua cara vecchia zia Sara sarà cibo per i verbi Non posso Dovrò usare l'ampolla per strappartela dal cuore, signor Pini I rituali di legame sono quasi pronti, non manca molto Continuate a lavorarvelo, voglio che sia molto debole quando i rituali cominceranno Da ci stiamo Bella Fa un culo Sarà già stata squartata e disossata e tu non ci avrai guadagnato nulla Pensa quanto sei impotente Perché la prossima volta non sarò così gentile Conociate l'edificio Bella merda Ragazzi con questo concludo il video Ci vediamo al prossimo episodio Mi raccomando commentate e mettete mi piace Ciao ciao ciao